Benvenuti nel mio salone dietro Barber a Licata. Grazie a tutti. Grazie alla scuola Euroform ho conseguito quattro anni di questa scuola. È stato sempre un mio sogno aprire il salone a condomio e quindi grazie anche alle professoresse Lavinia di Falco, Angela Lagreche e tanti altri mi hanno aiutato a raggiungere il mio obiettivo. È stato sempre un sogno mio da piccolo anche perché ho avuto anche la mia spalla destra mio fratello che è molto più grande di me e quindi ho avuto diciamo un appoggio tra virgolette a livello lavorativo quindi dando sempre il meglio di me con tanto impegno, tanto amore per questo lavoro ad oggi sono arrivato ad aprire il mio salone qui. Samuel Yetro è un giovane talento che ha conseguito la qualifica professionale e il diploma di tecnico presso l'Euroform di Licata. Io ricordo Samuel come un ragazzo con la testa sulle spalle, un ragazzo che non si è mai fatto condizionare da niente e da nessuno e che ha sempre avuto ben chiaro l'obiettivo da raggiungere che era appunto quello di aprire un salone. Oggi finalmente ci è riuscito con tanti sacrifici, tanta buona volontà e a noi non rimane altro che augurargli tanto successo professionale e siamo sicuri che lo avrà. Questa mattina abbiamo consegnato una targhetta come segno di grande valore, è stata consegnata da me ma da parte del presidente, il dottore Salvatore Licata, perché per lui così come per tutti noi collaboratori di Euroform queste sono grandi soddisfazioni. Sì, ringrazio ancora il presidente Salvatore Licata per questo grandissimo pensiero, per me è sempre stata una grandissima persona e la stimo molto. Grazie ancora. Grazie. 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 Grazie.